Vogliamo vedere la materia di questa sera? Subito di che cosa parleremo, su che cosa vanno le vostre domande? Il fumetti, i fumetti, vi piacciono i fumetti? Sono più di 3 milioni le persone con il diabete dell'anziano, di tipo 2, felice. Aspoltiamo il video, signor, che c'è alcuno di noi della cosa. Super! 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 Ulp! La baffa di produzione crash! Ulp! Ulp! Banno io! Bang! Ma oggi va bene il mio nome? Ulp! Mettan Dafür! Mettan below fu помощью SQUASH! S khido! Ulp! Gmun Bugün 일 stomach, viol! Tshof! Ulp! Kni... Ulp! 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 St null! Ulp! 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 Squish! Ulp! 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 colp ecco io dice ora lo dice e io ne sono felice grazie colp